Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a dominare l'Italia, dunque bel tempo ma con qualche improvviso temporale. Andiamo nel dettaglio per capire meglio le aree maggiormente a rischio. Sul Veneto situazione di mercoledì 16 giugno decisamente buona sarà soleggiato salvo per una locale nuvolosità medio alta. Maggiori addensamenti sui rilievi specie su quelli dolomitici dove sarà possibile anche qualche rovescio o temporale a partire dalle ore centrali. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo poche novità tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento al mattino, dal pomeriggio qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime infine sui 31-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.